Vedi come camminano a... Ma c'è una musica che non sentiamo? Non so se è provvisto. Mazza, sono lenti proprio oggi. Eh? Visto che il tempo li assista in altro pochi. Si sono fatti vecchi quelli in là. Non riescono a correre più voti. Allora, quello è la Madonna, quello che sta dietro è Pietro. Quello che sta dietro è... Uno è San Giovanni e l'altro è San Pietro. Ma non sapevo che... Però non corrono quei due. Guarda, guarda! Mazza, adesso... Eccola! Tutto daлю. Equipi a troppo... Dicite! Andate a troppo... Refu. Eccola. Butte,ăm andasì. Eccola... Arec è la sfg? asì.... Grazie a tutti.